Vi propongo, per alleviare il fatto di dover essere costretti in casa, la lettura di due miei libri, gli ultimi due miei libri, che l'editore, Fusta Editore, ha deciso di mettere in rete come e-book. Sono Il coraggio di Chong, la vera storia del comandante Silvio Bonfante, la storia di un Ligure, la storia di una medaglia d'oro al valore della Resistenza, l'altro è Resistenza svelata, la storia di una monaca, di una monaca suor Carla De Noni, che era stata una spia, un agente segreto al servizio dell'intelligence inglese e al servizio della Resistenza. Due libri, due libri semplici che parlano di storia, di storia romanzata, dove l'80% del contenuto è verità e il 20% è fantasia.